Io ho sempre avuto la sensazione di avere un tipo di sempre il posto e mi sono stati interessati fino a forse proprio ai contatti rispondendo quello che non avevamo dovuto fare. Poi sono apposata che è il momento in cui mi distrutta dove loro erano sopra tanti punti. E ecco, che è un momento più importante che mi ha usato il momento di chi ti portai, e di competenza. Esatto, che... Un po' di differenza. Siamo un po' sotto, comunque con partenza, se ne conosci che può farci anche il vantaggio, Mi ricordo bellissimo, però ha dimostrato ancora una volta il valore del gruppo. Che resto fanno con la provincia? Sì, una squadra che ha delle giocatrici che giocano il massimo internazio e conosciamo anche bene. Adesso lo riusciamo un attimo e poi le studieremo perché ci sarà una bella partita. Posso chiederti una cosa, Anna? Ti chiedo se c'è stata un po' di tensione all'inizio della partita. Se sentivate un po' l'importanza della guerra? Mi sono perso quello che hai detto all'inizio. Ma allora è sempre un po' un'emozione perché quando giochi in Canova sembra fare bella figura, quindi ci sta magari essere partita un po' a contraste. Loro ci hanno messo un po' in difficoltà, in battuta. Non abbiamo ricevuto benissimo all'inizio, però poi ci sono contento perché abbiamo sistemato velocemente. Grazie.